Fare squadra per valorizzare sempre più le produzioni agricole toscane tra innovazione e qualità. Questo è il filo conduttore della visita della vicepresidente della regione toscana e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi a Terre delle Truria, società cooperativa con sede ad Onoratico che vanta 3.500 aziende agricole e associate, la più importante realtà imprenditoriale del mondo agricolo toscano e la quarta in Italia. Dai produttori associati di Grosseto Livorno, Pisa e Siena arrivano olio, vino, frutta, verdura e cereali. Una realtà molto importante perché peraltro investe su innovazione, investe sulla qualità, sul biologico, sulla diminuzione dell'utilizzo di alcune sostanze come il glifosate e quindi una realtà che noi come regione toscana abbiamo tutto l'interesse a sostenere insieme alle altre che si pongono in questa linea perché è la linea che la comunità europea ci dice di sostenere, di un'agricoltura sempre più ecocompatibile che rappresenti un simbolo contro il cambiamento climatico, che lavori sempre più sulla qualità come devono fare poi le aziende nel nostro territorio. Terre delle Truria, oltre a puntare su tutta la filiera dell'agroalimentare, segue e aiuta le aziende agricole associate. Per noi è importante mettere al sistema l'agricoltori e sostenere il paesaggio agricolo toscano perché è un bene che ci è stato tramandato e che ancora oggi ha un appeal molto importante verso il mondo intero. Quindi un binomio fa paesaggio, cultura e agricoltura garantisce anche un reddito ai nostri agricoltori e quindi la vita della nostra operativa. Dopo la visita al centro dove vengono venduti i prodotti agricoli delle aziende associate, la vicepresidente Saccardi ha fatto tappa alla tenuta argentiera nella doc Bolgheri con 75 ettari piantati a vigneto dove si producono vini di pregio.